Le diamo il benvenuto al Museo Waldo Ferrer. Questo museo è stato inaugurato nel 2008, in coincidenza con il centenario della creazione della Scuola dell'Infanzia Telementare Hijos di Obreros, luogo in cui si trova, ed è dedicato all'educazione a Talmadena. È stato creato grazie al lavoro del sobrintendente delle miniere Waldo Ferrer, che ha reso possibile la integrazione nel mondo dell'instruzione di un gran numero di bambini e laboratori delle millenarie miniere, uscendo dalla retratezza dell'analfabetismo. Come preambulo al museo, nella sua sala d'ingresso c'è una scena molto singolare, un vecchio tavolo con una mapa fisica della Spagna degli anni cinquanta del secolo scorso. Lo scopo di questa scena è quello di coinvolgere i visitatori in un momento speciale, quello di escatare una fotografia che vi ricordi che si trovano in una scuola ricca di storia, e che presto potranno verificare questa storia nelle sale del museo che si aprono dietro un grande murale accanto alla porta d'ingresso del museo. Il museo è distribuito su due sale. Nella prima sala, la visita si esvolge seguendo il filo conduttore dei materiali per le lezioni, delle risorse didattiche, dei momenti più interessanti vissuti nella scuola, ecc., che fanno partecipare attivamente lo spettatore alla visita, facendo fluire in lui la storia di un centro educativo vicino al prossimo, che lo riporta alla sua infanzia e ai ricordi dei suoi anziani. La seconda sala rappresenta un'aula degli anni 60 del XX secolo vista da un'aula attuale. Il tour si conclude con la proyezione di un audiovisivo di appena 15 minuti, dove Don Quijote e Sancho Figurati portano i visitatori in questa terra per raccontare la storia di questa scuola centenaria. Continui a conoscere questo museo, un piccolo gioiello pieno di sensazioni e ricordi che ci dimostrano che l'educazione è uno dei più grandi valori dell'essere umano. Adesso lasciamo questo posto, ma può continuare a conoscere altre storie di al Maden espostandosi al prossimo punto di interesse.